L'inizio della didattica a distanza ci ha posto dei limiti perché creare qualche cosa di concreto tramite un mezzo come quello della didattica a distanza era abbastanza difficile. Però devo dire che i docenti ci hanno aiutato molto in questo perché hanno suddiviso il corso in delle fasi di progettazione, di lavoro in gruppo, di brainstorming, di design fatta a distanza dove poi abbiamo potuto mettere in pratica successivamente, quando ci sono state le riaperture, quello che avevamo imparato al computer senza poterci conoscere di persona. Questa è l'opera che hai presentato oggi in questa presentazione finale del corso. Quando l'hai creata? Questa è venuta in mente dopo, dopo la prima fase. Durante le lezioni che avevamo cominciato qui abbiamo fatto un progetto d'equip per il comune d'Albissola. Abbiamo imparato quello che è lavorare in team ed è stato fondamentale per la realizzazione del mio progetto. Io ad esempio personalmente non ho molta esperienza sul tornio ed è stato uno dei miei compagni, Giacomo Scapin, quello del banco accanto, a realizzare al tornio le sfere che poi io ho lavorato per realizzare il mio bruco. Hai intenzione di proseguire adesso con questo lavoro? Assolutamente sì. Questo per me ha settato l'inizio di un percorso, assolutamente non la conclusione. E anche conoscere le persone con le quali ho lavorato è stato di importanza fondamentale per me, per il mio sviluppo come persona e non credo che abbandonerò mai più la ceramica dopo questa esperienza. Tu sei del territorio, William? Io vengo da Genova. Adesso al momento mi ritrovo in una comunità terapeutica a Varazze. Infatti questo per me è un percorso anche di arte e terapia, oltre che solamente legato alla ceramica.